Per la Romagna gli anni Sessanta rappresentano gli anni del boom economico e del turismo di massa. Ecco, in questo decennio la riviera romagnola può considerarsi una delle capitali europee del turismo, ma anche, a suo modo, una capitale europea del motorismo. Sono infatti gli anni della mitica moto-temporada romagnola, un evento che è ancora oggi sinonimo di spettacolo e che portava in questo territorio campioni provenienti da tutto il mondo. Ecco, le moto-temporade erano gare che si svolgevano lungo le città di costa, Cesenatico, Cervia-Milano-Marittima, Rimini, Riccione, ed erano organizzate dai motoclub locali, con anche un grande dispendio economico, che comunque veniva in un certo senso ripagato dalle folle oceaniche di pubblico, parliamo di decine di migliaia di spettatori per ogni gara. Il palcoscenico di queste moto-temporade erano i lungomari cittadini e i protagonisti erano i grandi divi. Voglio però dirvi anche una cosa, sono gli anni, grazie alle moto-temporade, dell'internazionalizzazione del motociclismo anche in Romagna. Infatti arrivano per la prima volta le temutissime giapponesi, la Yamaha, la Suzuki, la Honda. Ecco, ma vi dicevo sono anche gli anni del divismo. Hanno infatti partecipato a queste gare tutti i più grandi campioni, da Giacomo Agostini a Mike Hylwood, da Phil Reed a Silvio Grassetti, Tarquinio Previni, i fratelli Villa e tanti tanti altri. Potrei elencarvele per lungo tempo. Anche i romagnoli hanno i loro idoli di casa. Basti pensare al riminese Renzo Pasolini, campione straordinario, campione anche molto sfortunato purtroppo, così come il più giovane Otello Buscarini da Forlì. Ecco, una moto-temporada in particolare rimane nella storia del motociclismo italiano, purtroppo per un fatto tutt'altro che positivo. Genericamente l'hanno detto molti piloti che le hanno corse, le moto-temporade non erano gare particolarmente pericolose. È vero che vi erano delle balle di fieno a protezione e che gli spettatori non sempre erano sugli spalti, però le curve in larga parte si facevano in prima o in seconda marcia, quindi erano in questo senso diciamo lente. Tuttavia il 4 aprile del 1971 si tiene a Riccione il Gran Premio Internazionale per la Verde dell'Adriatico. Si tiene, in particolar modo la gara della cilindrata 3,50, si tiene sotto un violentissimo temporale che rende le condizioni dell'asfalto estremamente instabili. La gara si viene lo stesso, non viene annullata e Angelo Bergamonti si trova all'inseguimento, in seconda posizione, all'inseguimento del suo compagno di squadra, la MV Agosta, ma anche rivale Giacomo Agostini. Ecco, lungo un rettilineo, a causa dell'instabilità dell'asfalto, Angelo Bergamonti cade e purtroppo quella caduta gli sarà fatale. Ecco, la sua morte, tuttavia, riapre un importantissimo dibattito all'interno della federazione motociclistica, il dibattito sulla sicurezza dei piloti e nel giro di qualche mese vengono in Italia definitivamente bandite le competizioni motociclistiche su circuito stradale cittadino. Ecco, da quel momento le gare di motociclismo dovranno tenersi esclusivamente negli autodromi. Tuttavia le gare in Romagna non cesseranno, anzi, infatti non vi ho detto una cosa importante. Da qualche tempo, da un paio d'anni, 1969-70, in una frazione del comune di Misano Adriatico, chiamata Santa Monica, degli imprenditori avevano iniziato la progettazione e l'attuazione di un circuito di velocità per auto e per moto, circuito che verrà inaugurato il 6 agosto del 1972. Ecco, il circuito di Santa Monica, oggi Misano World Circuit Marco Simoncelli, diviene da quel momento l'erede di una storia, una grandissima storia e di una importantissima tradizione motociclistica che, come abbiamo visto, parte nell'agosto del 1903 a Rimini, nell'ippodromo riminese con la vittoria di Bruno Maffeis, e arriva sino ai giorni nostri, con gare di carattere internazionale, importantissime gare mondiali, e soprattutto con grandissimi piloti romagnoli di questa terra che le corrono e che queste gare le vincolano. Ecco, arrivati a questo punto, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a tutti.